Would only be black or white, but deep inside I know the day, oh it's come a day I discover 50 shades of color Un'altra? No Dai un'altra È molto forte, è molto colorato, è molto d'impatto È proprio, cioè, è proprio come Si siamo confrontati, lei era molto determinata ad appoggiarsi sulla coreografia Lei si è preparata e ha costruito un po' tutto quello che sono i meccanismi Che poi accadranno durante il clip I'm so glad to be here And choose to just ignore the way of pressure, of pressure Fifty shades of color with me Ciao a tutti